Grattacapi per Ivan Iuric in vista del match contro la Salernitana di Paolo Sousa, il Torino è alle prese con diverse defezioni nel gruppo squadra. Non ultimo Ilic, che sembra ancora avere qualche problema fisico e nonostante tutto verrà inserito nell'elenco dei convocati ma difficilmente vestirà una maglia da isolare. Certa la presenza tra i pali di Milinkovic Savic, in difesa ci sarà il gioiello di casa Torino, ovvero Alessandro Buongiorno, la difesa sarà completata dalla presenza di Rodriguez e Gravillon. Al centrocampo ci sono alcuni dubbi per Iuric con l'unica certezza chiamata Samuel Ricci. Al suo fianco per completare la linea 4 c'è il balottaggio tra Leonetti e Gineitis. Sugli esterni ci sarà Singo sulla destra e Lazaro a sinistra vista l'indisponibilità di Aina in quella zona del campo. L'unica punta sarà Sanabria che vuole aumentare il suo bottino personale, al momento ferma 8 gol. Alle sue spalle c'è un altro balottaggio, se Radonic pare sicuro di una maglia da titolare sul centro-sinistra, dall'altro lato Iuric non ha sciolto il dubbio tra Nikola Vlasic e Miranciuk con quest'ultimo leggermente favorito. Iuric vuole riscattarsi e ritrovare la vittoria che manca dal 12 marzo in trasferta contro il Lecce dove il Toro si impose per 2-0. Al contrario la vittoria casalinga manca solo dal 6 marzo dove venne battuto di misura il Bologna di Tiago Motta. Da ricordare che nei 15 minuti di intervallo tra Toro e Salernitana si terrà un momento significativo per la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, scambio di gagliardetti e bandiere infatti avverrà tra il Torino, For Special e il personale della cooperativa giovanamente di Salerno, per conto anche della serenitana For Special. Un gesto con il profondo significato dell'unicità ma anche al tempo stesso dell'uguaglianza.